Niente Cosa accade a quei piedini? Cazzo! Ce n'è uno sopra Ok Vabbè la sto registrando questa va Oh che due shot Ok uno Vorrebbe venire Da sopra però non lo so Non lo vedo Saliamo sopra va? Se Apri porta? Vai Metto la pistola Chiudo porta Porta chiusa E sopra Guardo io Ok porta chiusa Che bello Aspetta pronto apri Occhio Occhio c'è gente Ok Ok Fammi andare a me che cosa fa l'assalto Aspetta Vai Chiudo Oh occhio Madonna Madonna sa Ma con quelle mira Occhio sulla destra ce n'è uno Colonna in fondo vicino alle macchinette Non c'è più Non c'è più Occhio sulla sinistra alla porta aperta Dentro Dentro Si Ho sparato tre colpi Ho sparato tre colpi non vuole cazzo Madonna Ma tu sei veramente pronto Cioè io Non mi ha cambiato Ma non lo so se sono pronto Ma perché non mi ha messo il mirino che vuoi Che cazzo c'entra questo lottout E non ha messo un altro Eh vabbè ormai Che c'entra Aspetta vediamo qua Ce n'è uno ancora Fermo 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 Tutto tuo Ho capito ma non sto con lottout mio Ok uno è andato Ce n'è un altro Tutto problema Ma non lo riuscirò mai a prendere questo mirino di merda qui Ma dov'era? Nel giardino Nel giardino Occhio Porta Eh vabbè Mi ha sciottato Eh sì Sparrati la finestra accanto e poi passa Ma perché mi mette via l'arma? Beh Eh ma beh sì Non vedo nulla eh Ma nemmeno io L'hanno affrontato su Occhio dietro la colonna sta Scappa un leprotto Dio Occhio occhio sulla sinistra la porta quella aperta in fondo Ma sono quanti Non è andato Occhio c'è l'altro Madonna c'è l'altro ancora No Occhio subito Occhio C'è nessuno Occhio scale Niente vai Porta aperta occhio Sì vabbè Ormai me ne frega un cazzo Vabbè non si sa mai Infatti che non ho il mio loadout Quindi mi sto trovando malissimo proprio a sparare Ma pure io non sto con il mio che paranoia C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Occhio No Curo E in più mi suicida Eeeh vabbè Ah comunque ho capitato Ma mi cambiano d'azione Natti È sì tanto di premere in piedi Questa la merda AHAHAHA Con la GECANTE AHAHAHA Allora C'è il simbolo della granata a frammentazione E lui mi tira la GECANTE Cioè non sono scemo io lo giuro E scusa questa cos'è allora Questa è la frammentazione Ok Sì Ma è rimasta intera come cazzo Ma è fatti è rimasta intera Ronda Uh Attenzione forse ho messo il loadout No Allora Ok Vediamo se mi ha messo Forse si sai Tattica in dio Uh Quanti Porta in fondo quella classica Eh Sì vabbè Fallini sto sparando Ok è morto AHAHAHA Stiamo giocando a soft air E non manco lo sappiamo PER DIO Ma vabbè Ah ecco Ok è andato dai Dopo aver sparato un caricatore a me Ho sprecato 12 colpi Cazzo se ne ho preso uno O meglio l'ho preso ma non è morto Eh Eh Madonna come mi sono caccato Io direi che è morto Nooo Ma non posso usare le macchine Ma poi con Con quale texture dell'acqua lo sta dicendo Vabbè Eh lì però Carico No Mi metto È proprio però Pensa audio è arrivato Vabbè Pensa audio è arrivato vabbè Pensa audio è arrivato vabbè Eh vabbè Apro Ho sentito un cover mi quindi Sì pure io Preso Ma secondo quanti Ma secondo Ma secondo Cazzo Si era nascosto Ma fa c***o morite con me Ma stavate correndo insieme C'è stavate correndo Poi ho detto Ah c***o ma questo è il nemico Forse dovrei spararlo A te davanti davanti Eh Stanno prendendo il tè Sì Muore Muore Ok uno è morto Cioè devo anticipare il colpo Come se fosse a Ma te 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 Vabbè Vabbè Sono morto Che novità eh Come? E quindi mi ha saltato quel colpo Puoi dirmelo così Eh vabbè Niente libro poi Eh le ultime parole famose Mi libero Mi libero No non è libero occhio Madonna ma con quale mira Oh Madonna Mi muove la lascio Occhio No Aiuto Sì Occhio E' fatto la finta Non vale Non ti vedo più Madonna la telecamera si fa schifo Questa K Vogliamo parlarne? Vabbè Questa K questa è MP5 Madonna santa Madonna santa Lui mi è venuta K Occhio In fondo In fondo In fondo Madonna Vi è uscito all'improvviso Non ho più munizioni No No C'è disintegrato C'è disintegrato Andata bene Allora Va bene Non muore Che cazzo devo fare Ok Viene un lato Ma por cattro Occhio Anche uno sulla destra Dall'altra entrata sta Occhio vicino alla pianta Dietro dovrebbe starcene uno Eccolo Occhio anche alla sinistra Occhio Uno l'ha eliminato E non so come fare Ecco Occhio eh Vicino alle macchinette sta Eccolo Un ferito schifo Occhio in fondo Due Può caricare Vai Non c'è nessuno Occhio Porta Madonna Da dove uscì? Dov'era? Baronne Santissime Ci stoppiamo qui Eh ma porca Porca Ah